E di due persone arrestate, quattro denunciate a piede libero e dodici segnalate alla prefettura come consumatori, il bilancio dei servizi antidroga svolti nella seconda metà del mese dai carabinieri della compagnia di Chiavenna. Un ventenne di Morbegno è stato arrestato dai militari della stazione di Delebio, dopo che fermato per un controllo a Piantedo è stato trovato in possesso di circa 34 grammi di stupefacenti, in prevalenza marijuana, un bilancino di precisione e 325 euro in contanti. Nei suoi confronti così sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Stessa sorte per un 22enne lecchese sorpreso dai militari del nucleo operativo e radiomobile a Novate Mezzola, nei pressi del parcheggio del Lido, in possesso di 2,5 grammi di hashish. Altre 5 grammi della sostanza divisi in 5 dosi sono stati trovati in uno zainetto nella sua abitazione insieme ad un bilancino di precisione, un grinder per triturare le foglie della droga e 155 euro. In totale riferisce il luogotenente Francesco Minniti, comandante interinale della compagnia di Chievenna, sequestrati 57 grammi di marijuana, 46 di hashish, uno di cocaina e uno di eroina.